Carta Baglia Foxy, la forza naturale della baglia. Presente? Eh, tesoro, tu saresti in gamma, se solo usassi un po' di più il cervello. Eh no, il problema non è tutto lì. A Mystic si può avere un solo destino. Ma un giorno... Pensavo che per Mystic passassero solo Merluzzi e Aragoste. Io vado in cortocircuito solo a guardargli i polsi. Sei una ragazza molto difficile da trovare. Su Rete 4, domani, la storia di una bellissima cenerentola del 2000. Hai portato la tua povera ragazza portoghese a cena a casa tua per sconvolgere la tua bella famigliola! È una romantica storia di ieri che ritorna al nostro tempo con la stessa morale di sempre. Con Giulia Roberts, Mystic Pizza, domani alle 20.30, su Rete 4.